La prima casa delle farfalle in Lombardia a due passi da Milano e Brescia. Una serra tropicale con all'interno centinaia di farfalle provenienti da tutto il mondo. Una vasta esposizione di piante, pesci, animali da compagnia, articoli per la casa ed una fantastica fattoria didattica. Centro Verde Caravaggio, il piacere di conoscerlo.